Un omaggio al talento multiforme di un artista, le cui immagini sono ovunque, notte a tutti, ma in molti casi senza che a quelle immagini si associ il suo nome. La terrenale di Milano celebra Sol Steinberg con una grande mostra che raccoglie disegni, ma anche maschero collage, curata insieme a Rita Lallupi e con Francesca Pellicciare da Marco Belpoliti. Questa è la mostra più importante che è stata fatta negli ultimi 40 anni, dedicata a Sol Steinberg, uno degli artisti fondamentali della seconda metà del XX secolo e non solo, anche del XXI, perché è un artista non soltanto del passato, nel senso del passato prossimo, ma è un artista del futuro, è un artista contemporaneo. Il mito di Steinberg nasce dalla sua vita avventurosa e spesso in fuga dal totalitarismo e passa, per entrare nell'immaginario collettivo, dalle copertine del New Yorker, la rivista novecentesca per eccellenza. Ma la sua dote più straordinaria resta probabilmente quella di aver dato una forma visiva a sensazioni che sono molto comuni, ma spesso inafferrabili, l'universale di tutti i giorni. Ha disegnato la vita quotidiana, ha disegnato le immaginazioni della mente, ha disegnato delle cose che noi pensiamo ma che non riusciamo spesso a tradurre in immagine. Lo ha fatto con il modo più semplice possibile, cioè con il disegno. La mostra internale, intitolata Sol Steinberg New York Milano, dà spazio anche ai lavori dell'artista fatti nel capoluogo Lombardo, dove ha vissuto per anni durante il periodo di formazione e ha opere successive dedicate proprio alla vita milanese, ma soprattutto costruisce un ponte sottile tra noi, i nostri pensieri e la forma che gli diamo. Ci fa capire che cos'è la società contemporanea, ci fa capire che cos'è la mente complessa di un uomo del nostro secolo. L'esposizione, realizzata alla terrenale con Electa, è anche l'occasione per vedere in anteprima parte dell'importante donazione di opera dell'artista che la Biblioteca Nazionale Braidense ha ricevuto dalla Sol Steinberg Foundation.